l'ornitorinco uno strano animale radiofonico e dentro l'ornitorinco Mario Calvagno in collegamento con noi c'è il pastore avventista Saverio Scucci Marri decano della facoltà avventista di teologia e responsabile della redazione religiosa della casa editrice a dv ciao Saverio benvenuto ciao Mario ciao a tutti siamo giunti alla decima puntata del nostro ciclo sui dieci comandamenti i podcast di questa e delle precedenti trasmissioni si possono scaricare dal sito rvs roma.it ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che stiamo seguendo la successione i contenuti dei comandamenti secondo quanto scritto nella bibbia e non nella elencazione tradizionale oggi parliamo del sesto comandamento delle sacre scritture libro dell'esodo capitolo 20 versetto 13 dio dice non uccidere ecco Saverio non uccidere rappresenta in qualche modo il confine tra il bene e il male questo è riconosciuto universalmente quali basi puoi porre per questo comandamento sì come detto tu diciamo è uno dei comandamenti più semplici questo da fondare cioè è universalmente riconosciuto il fatto che togliere la vita a qualcuno è un gesto sbagliato per cui se proprio dobbiamo trovare un denominatore veramente comune a ogni tipo di religione filosofia etica e così via sicuramente in questo nocciolo duro comune c'è anche il il valore del rispetto della vita e quindi del non uccidere il che non vuol dire che gli esseri umani non uccidano come risaputo va bene ma significa semplicemente che laddove avviene comunque in generale in ogni cultura è considerato qualcosa di sbagliato il fatto di uccidere noi ora diciamo tu mi chiedevi su cosa possiamo su quali basi possiamo porre questo comandamento e quindi uno l'abbiamo detto no quindi il valore della vita è sicuramente la base etica su cui giace questo divieto il rispetto della vita dio si presenta nella bibbia come un dio di vita no il dio creatore quindi colui che dà la vita togliere la vita è l'esatto opposto quindi il gesto massimo di ribellione cioè vuol dire andare proprio diametralmente contro l'opera di dio quindi uno scontro diretto nei confronti del creatore diciamo io si è un'opera di distruzione quindi l'esatto contrario dell'opera di creazione questo è il primo punto dopodiché diciamo su questo principio fondamentale poi ci sono tutta una serie di testi argomentazioni bibliche che si possono in qualche modo leggere prendere in considerazione per fondare ogni commento e valutazione su questo comandamento e quindi non so se magari diciamo possiamo sì li vediamo li vediamo in corso appunto dell'intervista stessa magari sia tu potrai citarli io stesso cercherò magari forse di chiederti qualcosa di più specifico e in questo senso ecco la bibbia ci dice che si può uccidere in maniera metaforica anche con la propria lingua giacomo insiste più volte su questo tema dice che la lingua può operare il male che la lingua è un fuoco eccetera e poi c'è anche il detto che un po tutti conosciamo ne uccide più la lingua che la spada saverio sì quindi è un aspetto fondamentale perché se tutti siamo d'accordo diciamo come dicevamo prima no se tutti siamo d'accordo sull'importanza di non uccidere però è anche vero che questo comandamento forse è quello non so come dire meno compreso anche meno definito perché in realtà questo comandamento è fortemente collegato a tanti altri e tu giustamente posto una questione cioè quella del parlare e gesù stesso no che dice nel vangelo di matteo per esempio dice che dire delle parole offensive equivale a uccidere no e questo ovviamente è un tema che ci riguarda tutti quanti quindi se di fronte alla possibilità di ammazzare un essere umano probabilmente diciamo la maggior parte di noi potrebbe sentirsi a posto di fronte a questo comandamento no cioè probabilmente la maggior parte di noi non capiterà mai di ammazzare una persona però se la mettiamo invece su quest'altro piano allora qui la questione si complica forse non dovremmo andare velocemente al comandamento successivo ma soffermarci un attimino perché si può uccidere anche con le parole certo ma tanti appunto per riprendere quello che tu dicevi saverio dicono beh io non uccido nessuno non ho mai ucciso nessuno quindi sono a posto non ho fatto nulla di male non faccio nulla di male mentre invece poi il versetto che tu ricordavi di di matteo rispetto a gesù credo che dica traducendolo poi in italiano lui dice chiunque avrà detto raca quindi avrà detto stupido credo che sia il corrispondente di con alcune traduzioni chiunque avrà detto stupido a un altro insomma è come se lo avesse ucciso in qualche modo quindi è qualcosa di serio qualcosa di importante insomma quindi è non solo riferito diciamo all'insulto occasionale no cioè in una litigata uno può capitare che l'altro ti insulti ma il diciamo il tempo verbale se noi andiamo allora si tratta di matteo capitolo 5 i versetti da 21 a 22 dove gesù quando dice chi dice al proprio fratello stupido oppure chi gli dice pazzo no gesù il verbo il verbo dice va bene lo mette in un tempo verbale che indica continuità cioè che non indica un'azione puntuale quindi il concetto è che lì gesù è ovviamente è sbagliato anche l'insulto puntuale va bene però lì gesù sta parlando di una cosa ancora più grave di questa cioè sta parlando del del dire continuamente a una persona tu sei stupido oppure dire continuamente a una persona tu sei pazzo e guardate che questo è un grave problema oggi no e forse si può legare con episodi ad esempio di bullismo non so se esatto ha molto a che fare con il bullismo molto a che fare con un'educazione sbagliata dove anziché incoraggiare per esempio i propri i propri figli con parole di incoraggiamento di apprezzamento eccetera non si fa che magari denigrarli no dire loro che siete se sei un incapace non ce la farai mai ecco c'è a che fare con questioni che oggi sono sono ritenute molto gravi e sono effettivamente capaci di determinare proprio l'infelicità di una persona no a volte come ricordato tu il caso del bullismo può portare anche alla morte bullismo cyberbullismo e il la violenza verbale in internet no quindi si tratta di attività dove la persona non viene fisicamente toccata però la sua stile la sua autostima viene viene colpita viene mitragliata e quindi una persona può come dire continuare a vivere biologicamente però poi morire dentro certo ma poi allora è interessante che gesù si rivolga proprio a questo tipo di di violenza è chiaro no dicevo poi se ci spostiamo su un termine che il termine del mobbing no quindi ci spostiamo in età adulta nei posti di lavoro o similari e le azioni sono abbastanza simili forse sono ancora più complesse ancora più subdole di quelle del bullismo e il risultato poi conduce sempre in qualche modo a situazioni simili sì sì è vero anzi diciamo per chi in qualche modo ha approfondito la realtà per esempio della violenza sulle donne no oggi è considerata per esempio violenza sulle donne ma anche sui minu sui minori proprio l'abuso verbale no si chiama così perché spesso diciamo succede che la donna in questo caso la donna va bene certe volte può essere anche il contrario però non viene non viene toccata fisicamente ma le si fanno altre violenze di tipo psicologico come la violenza verbale la violenza economica ecco che hanno tutto a tutti a che fare con quello di cui stiamo parlando cioè scegliere di non uccidere una persona nel corpo perché su quello tutti quanti capiamo che qualcosa di particolarmente grave decidiamo però abbastanza impunemente abbastanza superficialmente a volte di ucciderla in tanti altri modi ecco allora questo comandamento ci dice no qualunque sia la modalità con la quale decidiamo di uccidere qualcuno è sempre sbagliata certo ma saverio a proposito di modalità non si uccide con soltanto con le parole ma anche con i pensieri ecco i sentimenti d'odio verso gli altri possono portare a ulteriori conseguenze vorrei aggiungere anche che possono uccidere perfino chi prova questi sentimenti di odio una forma di suicidio personale sì è vero bravo è così cioè è un uccidere in realtà tutte le forme di violenza sono così sì sì anche la violenza fisica brutisce chi la fa quindi in realtà fa del male anche a chi la fa misura diversa probabilmente ma nessuno ne ricava vantaggio vero dalla violenza fisica e tanto più anche dalla violenza verbale e in questo caso come detto tu anche dai pensieri violenti quindi pensieri di odio i sentimenti di odio a tutti ci può scappare cioè a tutti ci capita di poter essere arrabbiati con qualcuno in qualche momento che ci ha fatto qualcosa non è quello il problema diciamo le emozioni ci sono e bene che ci siano non è quello il punto il punto è quando un'emozione negativa viene coltivata fino a trasformarsi in un sentimento di odio questo sentimento di odio a volte può arrivare a diventare anche un'ideologia di odio no e quindi bisogna stare molto attenti a questi meccanismi io lo dico perché a volte anche nell'ambito della politica oggi vengono usati da questo punto di vista delle strategie molto imprudenti no si cerca di soffiare a volte sulle paure della gente di coltivare sentimenti di odio di promuovere quei sentimenti di odio e poi di creare delle delle vere e proprie ideologie no quindi che dove dove si formano i pregiudizi pregiudizi in fondo cosa sono se non un un pensiero di odio verso una persona o una categoria di persone verso le quali io nutro questi sentimenti sbagliati ecco prima ancora di conoscerle per cui bisogna stare molto attento a questo perché anche questo è come detto tu prima prima di tutto qualcosa che ti corrode dentro cioè la persona che odia è una persona infelice e secondo i sentimenti di odio poi danneggiano l'altro a volte se vengono coltivati anche in maniera ideologica possono portare alla rovina un intero paese un intero contesto è chiaro quindi i sentimenti che diventano i sentimenti negativi non sono già buoni in sé ma se diventano poi delle ideologie organizzate e diventano poi anche delle azioni insomma ne abbiamo delle testimonianze dalla storia e dalla società e dai giornali insomma è importante questo che dicevi saverio saverio il il comandamento non uccidere lo dicevi anche tu in apertura è scarno essenziale stringato non prevede alcuna applicazione specifica per il tempo in cui fu proclamato figuriamoci per noi oggi è soltanto un non uccidere molto generico molto generale allora in conclusione possiamo tentare alcune applicazioni legate all'etica e alla morale di oggi ed anche diciamo così alla particolarità del nostro vivere personale e sociale sì allora diciamo innanzitutto voglio precisare che è un bene che il comandamento non uccidere sia così certo perché diventa un ideale veramente senza contesto senza tempo no aperto a tutte le possibilità quindi il fatto che per esempio nei tempi biblici in particolare nell'antico testamento ma nel nuovo non era tanto diverso venisse inteso come non uccidere un essere umano in tempo di pace va bene quella un essere umano in tempo di pace come dire sono così delle aggiunte umane al comandamento cioè il fatto che sia così aperto è già un'indicazione da parte di dio insomma se non avrebbe fatto una casistica e quanto riguarda dio il principio puro e semplice è quello di non uccidere sì 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 e poi come dire ogni società no non non è in grado di vivere fino in fondo l'ideale e quindi nel nella realtà poi traduce quell'ideale in qualcosa di più piccolo e questo è un altro paio di maniche quindi certamente la bibbia ci racconta di un mondo dove questo non uccidere veniva inteso come non uccidere in tempo di pace ecco però in tempo di guerra potevi uccidere tranquillamente e soprattutto veniva riferito solo agli esseri umani va bene ma in realtà il comandamento è lì dice non uccidere e quindi rimane aperto invece alle sue estreme conseguenze e che cos'è che ce lo dimostra questo ce lo dimostra il principio e la fine della bibbia cioè la bibbia inizia e finisce con una nuova terra dove non uccidere vuol dire non togliere la vita mai a nessuno in per nessun motivo in nessuna circostanza cioè non esiste proprio la morte qui c'è proprio la vita nella sua espressione assoluta e quindi non esiste la possibilità di morire né di uccidere non solo per l'essere umano ma anche per il regno animale e quindi questo questo ci fa capire che quel comandamento non uccidere è questo l'ideale a cui porta e quindi è questo l'ideale al quale dobbiamo noi in qualche modo tendere no quindi detto questo oggi sicuramente di fronte a questo comandamento non uccidere si pongono varie questioni etiche quindi insomma di cui forse la più semplice è proprio quella dell'omicidio come dicevamo prima non l'omicidio è sicuramente condannato ecco da ogni forma di morale che esista sulla terra ma a parte quello ci sono però altre questioni per esempio la pena di morte certo quindi bisogna decidere ecco riguarda la pena di morte no come ci si ci posizioniamo noi di fronte a quel comandamento ecco cioè è ammissibile come dire credere nel comandamento non uccidere allo stesso tempo essere favorevole alla pena di morte ecco ci sono tutta una serie di di riflessioni che bisogna fare in questo senso oppure c'è il tema della guerra no ora la guerra per esempio è stata sempre nonostante il comandamento non uccidere sempre stata sempre considerato un valore cioè un modo normale di gestire diciamo così rapporti tra i popoli addirittura esisteva tra i valori anche il valore in guerra no quindi l'abilità di una persona di essere un bravo guerriero con un'etica tutta sua ma che comunque ecco è un bravo soldato ecco è ancora ammissibile questa visione cioè oggi oggi non è più così va bene oggi sicuramente esiste una grande sensibilità pacifista che non risolve anche quella tutti i problemi no perché a volte il pacifismo poi si scontra con il diritto dei popoli di voler insorgere contro le proprie dittature no i propri le proprie oppressioni e a volte quei popoli dicono sì certo voi siete pacifisti perché avete fatto la guerra avete conquistato la democrazia e ora siete diventati pacifisti però noi ora che invece continuiamo ad essere oppressi ci guardate male no quindi effettivamente è una questione complessa così pure quella dell'esercito e delle forze dell'ordine cioè come conciliare il non uccidere con il bisogno che comunque abbiamo delle forze dell'ordine no se c'è una legge la legge ci deve essere qualcuno che la fa rispettare e a volte bisogna usare la forza per farla rispettare ecco per cui è sicuramente una questione etica da prendere in considerazione è chiaro altre questioni l'aborto per esempio no come ci si pone no l'aborto il diritto di abortire un diritto importante che è stato acquisito però anche quello prevede comunque l'uccisione e quindi come conciliare le due le due esigenze lo stesso valgasi invece non per l'inizio della vita ma per la via per la fine della vita per l'eutanasia no si sente l'esigenza per esempio di una legge in merito a questo e quindi il dilemma è come garantire il diritto a una vita dignitosa però allo stesso tempo diciamo salvaguardare il comandamento appunto di non uccidere oppure spostandoci invece sul diciamo finora abbiamo parlato dell'essere umano però ci spostiamo un attimo sull'ambiente andiamo a caccia e pesca no sono ancora attività possibili la caccia e la pesca alla luce del comandamento non uccidere è una riflessione che bisogna fare ecco sicuramente secondo me sarebbe da escludere caccia e pesca come sport cioè un credente che crede in questo comandamento non può pensare di fondare il proprio divertimento comunque la proprio il proprio svago sull'uccisione di altri esseri viventi ecco considerazioni diverse invece possono essere fatte riguardo all'alimentazione perché per tanti motivi bisogna vedere anche i bisogni di sostentamento dei popoli ecco pure il discorso ecologico no c'è anche questo l'ecologia no cioè pensare che esiste anche un altro modo di uccidere di uccidere che è quello di uccidere l'ambiente in questo modo si uccide poi l'uomo e anche si uccide anche l'essere uguale quindi uccidi direttamente l'ambiente che comunque il secondo la bibbia la natura non è pietra morta secondo la bibbia la natura il pianeta è una creatura di dire quindi qualche modo è da considerare come una creatura un essere vivente no nella bibbia noi troviamo a volte le montagne che saltano no gli alberi che battono le mani cioè c'è l'idea l'idea che siamo non siamo solo pietra cioè il pianeta non è solo una pietra che tu la puoi spaccare distruggere come vuoi è il pianeta vivente insomma quindi come è il pianeta vivente quindi pianeta vivente quindi non solo si uccide con l'inquinamento non solo uccidi il pianeta direttamente ma indirettamente in realtà uccidi anche l'essere umano perché noi viviamo no delle all'interno di questo pianeta ecco per cui diciamo sono tutte delle considerazioni etiche legate a questo comandamento che quindi sembrava facile all'inizio vabbè che ci sarà dire di non uccidere no e invece implica tante cose e spesso per decidere su queste cose la decisione non è semplice perché tante volte in tutte queste questioni che io posto tante volte non si tratta di dover scegliere tra una cosa giusta e una cosa sbagliata ma spesso purtroppo pensate per esempio l'aborto certe volte tu devi scegliere se è giusto che so abortire e che la mamma sopravviva oppure per portare avanti la gravidanza la mamma perde la vita no quindi è un esempio per dire come spesso in queste questioni non ci troviamo a scegliere tra tra un male un bene ma spesso tra due mali siamo chiamati a ragionare assumerci la responsabilità di scegliere qual è il male minore da seguire quindi abbiamo veramente bisogno non solo di che lo spirito santo ci converta la sua legge quindi ci converta anche a questo comandamento va bene che la maggior parte dei cristiani invece pensa di non avere problemi su questo invece se lo decliniamo in tutte le cose che abbiamo detto noi ci rendiamo conto che anche noi cristiani abbiamo ancora da mettere in pratica questo comandamento quindi non solo abbiamo bisogno dello spirito che ci converta a questo ma anche dello spirito che ci dia discernimento per poter fare le scelte più giuste è chiaro bene allora lasciamo tutte queste riflessioni importantissime lasciamole a noi lasciamole ai nostri ascoltatori e lasciamole a chi vuole approfondire personalmente questa tematica e questo comandamento sicuramente così importante e sul tema su questo tema dei dieci comandamenti ritorneremo ancora la prossima volta e l'appuntamento è sempre con il pastore saverio scuccimarri decano della facoltà avventista di teologia e responsabile della redazione religiosa della casa editrice adv grazie grazie saverio e ci sentiamo alla prossima grazie a te mario ciao a tutti l'ornitorinco uno strano animale radiofonico temi spirituali l'ornitorinco due